Mi pare che la tavola è apparecchiata e abbiamo capito perché è così difficile, perché è difficile, perché l'ammutamento del paradigma e l'ammutamento delle questioni che ci interrogano tutti, ci interrogano tutti anche nel modo in cui noi abbiamo sempre pensato e sempre vissuto e anche e soprattutto nel modo in cui abbiamo pensato e vissuto gli ultimi trent'anni. Io una cosa ho apprezzato, devo dire, siccome sto per dare la parola a Massimiliano Saccucci, che è delle sardine di Roma, io sono stata alla piazza di San Giovanni, sardina attempata, diciamo sottosale, però sono stata alla piazza di San Giovanni e una cosa emergeva lì, un sentimento emergeva, era l'idea che si potesse uscire dal sentimento di impotenza, perché noi abbiamo introiettato, noi intendo noi proprio, le generazioni più grandi, l'idea che non ci, appunto, che fosse, questo fosse l'unico mondo possibile, questo fosse l'unico sviluppo possibile, l'unica globalizzazione possibile e che quindi noi eravamo del tutto impotenti a cambiare, che il cambiamento non era più possibile. Nelle piazze delle sardine questo elemento che sono movimento più giovane e anche più politico, quello più direttamente, che più direttamente investe la politica, che ha meno un input di movimento di scopo come gli altri che abbiamo sentito, questa questione credo che sia rilevante e quindi volevo sentire Massimiliano Saccucci cosa ci può dire.